La ripartizione ambiente del comune di Brindisi è attualmente impegnata in un'importante attività di verifica della corretta esecuzione della raccolta differenziata. Questo sforzo è volto a migliorare la gestione dei rifiuti e sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di separare correttamente i materiali riciclabili. Gli operatori del comune stanno effettuando sopralluoghi in varie zone pubbliche altamente frequentate come il mercato Exinapri, il cimitero di Viale Arno e Piazza Mercato. Questi controlli hanno l'obiettivo di assicurarsi che i cassonetti siano utilizzati in modo appropriato e che i rifiuti siano separati correttamente. L'assessore all'ambiente Livio Antonucci ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per il miglioramento ambientale della città. Una corretta raccolta differenziata e fondamentale ha dichiarato per la sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini. La collaborazione con la società AVR è stata rafforzata per fornire chiarimenti e indicazioni a cittadini ed esercenti garantendo un uso corretto dei cassonetti e delle aree di raccolta. Questa verifica è parte di un ampio piano del comune per incentivare la raccolta differenziata e promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti. I cittadini sono invitati a collaborare attivamente seguendo le indicazioni fornite adottando comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti domestici. L'attività di verifica proseguirà nelle prossime settimane con l'obiettivo di coprire tutte le aree della città.